ciao a tutti amici di roma view ecco qui subito un nuovo unboxing e andiamo a parlare di un'altra uscita anime factory questa volta non in collaborazione con yamato e anime factory vero e proprio puro anime factory era un titolo che doveva uscire al cinema distribuito da coach media ma purtroppo per via della pandemia non ha visto l'arrivo in sala è uscito in digitale e ora è finalmente disponibile anche in un video fisico stiamo parlando appunto di lupen terzo il nuovo film d'animazione fatto in computer grafica tra l'altro ottima computer grafica ancora inferiore rispetto a diciamo pixar e blue sky o comunque tutti i vari studios americani però secondo me è un 3d veramente di buon livello oserei dire anche ottimo soprattutto per quanto riguarda i personaggi e i tessuti e esce in questa versione slip da collezione devo dire veramente un'ottima limited edition probabilmente per la diciamo la non uscita in sala non possiamo godere anche di una versione diciamo ultra limited però devo dire questa limited edition presentata da anime factory coach media è veramente di primo livello guardate innanzitutto che bella la la slip case veramente niente male da questa parte abbiamo ovviamente la marai cicciottosa poi abbiamo il titolo del film solo sulla parte superiore sulla parte posteriore no e poi abbiamo ovviamente la marai la marai all'interno presenta innanzitutto questo bel artwork con lupen dall'altra parte abbiamo fucico mentre all'interno abbiamo gigan e gemman che ovviamente poi vi vado a presentare a breve all'interno sono presenti le card che io ho già tolto quindi vedete ho già la bustina svolazzante poi li rimetterò in bustina dopo e e abbiamo ovviamente il disco blu devo dire di ottima ottima qualità ci sono anche un po di extra all'interno poi troverete come al solito nei dettagli tutta la descrizione abbiamo le card che non sono poche e ci presentano tutti i protagonisti in questo caso abbiamo questa bella immagine di lupen poi abbiamo il buon zenikata il retro che lo mostro una volta perché tanto è sempre lo stesso poi abbiamo fucico poi abbiamo il buon gemman poi abbiamo gigan e abbiamo ovviamente l'altra immancabile card di lupen il retro è quello classico di anime factory come vedete non per la vendita queste sono card inserite solo nella versione da collezione poi abbiamo il follettaccio fogliettaccio scusate di anime factory che ci spiega i cinque punti salienti per quale vengono scelti i titoli della collana o comunque cosa si ci si deve aspettare dalla collana di anime factory e poi per finire abbiamo un gustoso booklet devo dire abbastanza corposo in cui all'interno ci sono veramente un bel po di chicche a parte che c'è l'introduzione la storia del film ma poi abbiamo una bella intervista al regista del film di un pochino di un paio di pagine se non erro un 445 pagine mi sembra che sia appunto quattro pagine e poi arrivano le presentazioni dei personaggi principali del film devo dire veramente ottimo ottimo bucket da questo punto di vista e poi abbiamo le note di produzione in cui ci viene raccontato proprio come è stato prodotto il film e abbiamo questa bella immagine interna poi continuano le note di produzione e la cosa veramente interessante è che ci sono tutte le note sull'animazione 3d usata dai giapponesi quindi per chi è appassionato di animazione insomma c'è veramente un bel po da comprendere per quanto riguarda questa fantastica uscita di animazione giapponese e poi per finire abbiamo anche la splendida immagine interna come vi dicevo con appunto gammon e gigan noi ragazzi per questo video è tutto come al solito se vi è piaciuto mettete un bel like se vi fa piacere seguitemi e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle prossime uscite in unboxing e non solo e noi ci vediamo alla prossima ciao a tutti